Aola a Sollano, al via le prime manovre per provare a marcare sul campo il confine tra firettiani e antifirettiani. Nella seduta di ieri sera è stata la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, Marcella Carlisi, a presentare a sorpresa una proposta di sfiducia nei confronti del sindaco Firetto, il cui ampio cartello di riferimento della prima ora si è via via ridotto. Oggi è composto al massimo da 12 consiglieri contro i 18 delle opposizioni e così l'esponente grillina, ma senza alcuna strategia condivisa con gli altri gruppi, si è portata avanti. Carlisi nel documento ha scritto, il sindaco ha disatteso la maggior parte degli atti di indirizzo in mozione del Consiglio, di fatto mortificando un organo che rappresenta la totalità dei cittadini. Formalmente e giuridicamente, va detto subito, è un'iniziativa fine a se stessa, dal momento che la proposta per assumere la connotazione di mozione di sfiducia vera e propria, deve essere firmata da almeno 12 consiglieri. Assume invece un significativo valore politico, certifica che il sindaco in aula ha perso uomini e terreno di agibilità amministrativa, anche se alla fine c'è da chiedersi chi vorrà andarsene a casa anticipatamente, la prova provata e quando all'esame ci sono provvedimenti importanti, seppur non condivisi, ricevono ugualmente il lascio a passare, perché in gioco c'è spesso la decadenza o l'arrivo del commissario ad acta, dunque pensare ad una fine anzitempo della consigliatura è un esercizio oggi complesso e difficile. E proprio su questo punto interviene il consigliere comunale Gerlando G. Bilaro, è arrivato il momento, sottolinea, di fare scelte responsabili e radicali, basta con gli annunci e con le dichiarazioni di facciata attraverso il voto. Passiamo ai fatti, sfiduciamo prima il presidente del consiglio, che non rispecchia più la geografia politica in aula e poi il sindaco Firetto tuona ancora a G. Bilaro. Ed è la situazione politica venutasi a creare a Palazzo dei Giganti dopo l'uscita dalla maggioranza degli ex alfaniani Urso, Mirotta, Sollano e Nobile, se ne riparlerà subito dopo le festività pasquali, su sollecitazione del consigliere comunale di Forza Italia Pasquale Spataro, che ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della verifica rispetto ai nuovi scenari. Grazie a tutti.